Maria Concetta Maggio, tutto pronto ormai per questo concerto di domani sera all'atrio inferiore di Sciacca alle ore 21 con note soffuse. Di che cosa si tratta? E allora, intanto abbiamo scelto insieme al maestro Rodolfo Pagano, pianista, compositore, arrangiatore di Porto Empedocle, abbiamo scelto alcuni dei brani, diciamo, più famosi della canzone italiana, chiaramente dieci brani sono niente rispetto a quello che è il repertorio italiano e ci siamo un po', come dire, divertiti a arrangiarli, li abbiamo un po' costruiti a modo nostro e l'obiettivo è quello di creare un'atmosfera molto intima, confidenziale, in cui, insomma, riusciamo proprio a creare questo dialogo tra noi e il pubblico, ecco, il nome proprio note soffuse. Qual è, insomma, perché avete scelto proprio questi autori? Ne citiamo qualcuno? Allora, vabbè, da Dalla, Tenco, Pino Daniele, Gino Paoli, insomma, adesso Conte, poi presenterò anche un mio inedito. Diciamo che io nella vita, insomma, faccio, canto un po' di tutto, chi mi conosce lo sa, solo che sono sempre stata affascinata sicuramente dalla musica d'autore, tantissimo dalla musica italiana e poi, diciamo, il mio percorso di studi in canto jazz mi ha, come dire, mi ha arricchito di, ha fatto, come dire, ha stimolato in me tantissima fantasia e quindi adesso qualsiasi canzone ascolto o magari voglio interpretare, poi mi diverto sempre un po' a cambiarla, a cambiare le armonie, giocare un po' con la voce, quindi, e poi penso che la musica italiana è nostra, la sentiamo anche di più rispetto magari a un brano cantato in inglese o comunque in un'altra lingua. E poi, diciamo, questo progetto con Rodolfo è nato con l'intenzione di creare una sorta di concerti, infatti vorrei anche proporne degli altri, cercando queste location molto intime, molto belle, affascinanti, di sciacca. Abbiamo pensato anche a utilizzare dei palazzi antichi, anche così, come dire, a volte abbandonati e proprio creare una tipologia di concerto intima, e questo è il mio obiettivo, perché amo molto, quando canto amo molto, come dire, creare quest'unione con il pubblico, quindi evitare questo distacco netto, quindi per me la musica è anche, è un dialogo che molto spesso avviene anche da parte del pubblico, cioè il silenzio del pubblico può essere parte della musica. Quanto lavoro c'è dietro per preparare un concerto di questo tipo? Eh, vabbè, tanto, perché va considerato sicuramente tutto l'aspetto della ricerca, dei brani, lo studio poi che c'è anche dietro l'arrangiamento di un brano, incontrarsi con il musicista che non è dietro l'angolo, quindi anche lì... E poi, ovviamente, c'è, come dire, ci sono anni di ricerca continua, continua, continua. Poi, chi mi conosce sa che io sono maniacale, nel senso che comunque non sono mai contenta, il suono non mi piace, dobbiamo migliorare, per cui... C'è tanto lavoro, poi magari un'ora di concerto la gente dice, vabbè, hanno fatto dici canzoni, però in realtà c'è tanto lavoro dietro, anzi, è più il lavoro che c'è dietro che non poi l'atto stesso del concerto, che poi alla fine è la parte più bella, però voglio dire anche quella più breve, in un certo senso. Un'ultima cosa, ricordiamo a tutti l'appuntamento di domani, che è ad ingresso gratuito. Sì, domani ingresso libero per tutti, anche lì in decisione, però poi ho pensato che chiunque passi deve avere anche la possibilità di entrare, se chiaramente sei incuriosito o incuriosita, e gustarsi questo momento musicale.